Noi crediamo ovviamente nella giustizia, sicuramente verrà fatto giustizia soprattutto per lui. A chiedere giustizia ma anche l'aiuto di chiunque possa aver visto qualcosa a quel drammatico giorno è il figlio di Giuseppe Baracchi, il 77enne morto lo scorso agosto schiacciato da un albero. Chiunque appunto potesse fornire elementi utili a fare chiarezza, comunque di farsi avanti. Era il 21 agosto 2023 quando si è consumata la tragedia a Borgo e alla collina nel comune di Castel San Nicolò. Quel giorno l'uomo si trovava a casa di amici di vecchia data. Qui è stato travolto da un albero che lo ha lasciato esamine al suolo. All'arrivo dei soccorsi ormai non c'era più nulla da fare. Ci spieghiamo un po' a tutti che venga fatta chiarezza e quindi giustizia, venga resta giustizia appunto ad un uomo che era appunto conosciuto per la sua generosità che sicuramente non meritava di essere trattato così. Secondo i familiari, tagliare quel fusto non sarebbe stato il 77enne. Anche perché mio padre conosceva molto bene Boschi, cioè era una persona molto esperta, non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Dopo la morte è stato aperto un fascicolo in procura con l'ipotesi di reato o di omicidio colposo, attesa la relazione dell'esame autoptico, mentre domani sarà conferito l'incarico al consulente tecnico della procura che dovrà chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Cosa deve essere chiarito rispetto alla dinamica? Beh, innanzitutto escludere ovviamente quella, diciamo, una notizia che è trapelata inizialmente, cioè che fosse il signor Baracchi stesso a essersi reso autore di quel taglio, di quella pianta, di quell'abbattimento, cosa che comunque già a prima vista ci è sembrata un po' del tutto inverosimile, già il fatto che l'albero avesse colpito i signor Baracchi di spalle già sarebbe un elemento sufficiente di escludere questo, però ovviamente abbiamo bisogno anche di riscontri molto più sostanziosi.